E voi? Non è che per caso è un Pokémon di nome Medicham? Se sì, ti andrebbe di scambiarlo con il mio Hunter? Non ti azzardare proprio più a chiedermelo. No, non cambio idea. La mia ragazza ama scherzare, per questo mi piace tanto. La tua ragazza è una bestia di Satana! Scambia Hunter con Pietrastante! E non si evolve!